Ciao, qui Danilo Maruca di Dritto alla Meta.it. Se non mi conosci sappi che sono un life coach che aiuta le persone a raggiungere i loro obiettivi e in questo video voglio spiegarti come funziona l'autosuggestione. Se per caso hai dubbi sul fatto che una suggestione funzioni togliteli subito perché in realtà la realtà ti smentisce in quanto ogni singolo giorno tu sei praticamente succube di migliaia e migliaia di suggestioni. Ad esempio una qualsiasi pubblicità in televisione è una suggestione. Quando poi tu vai al supermercato e compri la Nutella o la Coca-Cola in realtà non hai scelto liberamente di comprare quei prodotti semplicemente sei stato suggestionato ad acquistarli. Quindi la suggestione è un mezzo con cui una qualsiasi persona può introdurre un'idea nella mente di un'altra persona e farla accettare quindi poi far agire con la persona di conseguenza. In questo caso voglio spiegarti invece quali sono le regole che determinano come funziona l'autosuggestione quindi una suggestione che però tu dai a te stesso in maniera tale da poterne scegliere il contenuto. Devi considerare che esistono cinque tipi di suggestione. Esiste la suggestione per autorità, la suggestione per abitudine, la suggestione per associazione, la suggestione per ripetizione e quella per imitazione. Quelle che a noi servono nell'autosuggestione sono le ultime due quindi quella per ripetizione e quella per imitazione. Brevemente te le spiego tutte e cinque. Suggestione per autorità sarebbe una suggestione che da una persona che noi consideriamo autorevole tipo il medico oppure lo ha detto il professore universitario oppure lo ha detto il sindaco oppure lo ha detto il papa e qualsiasi cosa dice una persona autoritaria praticamente noi l'accettiamo quasi sempre senza filtrare ciò che dice. Poi magari nel tuo caso hai strutturato un pensiero critico e quindi metti in dubbio ciò che dice l'autorità ok ma nella maggior parte delle persone se lo ha detto tizio viene accettato. Basta semplicemente che questa persona che dice un qualcosa abbia un certo ruolo nella società. Questo accade perché c'è una parte del nostro cervello che accetta la gerarchia in quanto tutto in natura ha una struttura gerarchica non c'è la democrazia nella natura e quindi se a dirti un qualcosa è stata una persona che si trova su un piano gerarchico superiore al tuo tu lo accetti ed è giusto che sia così non deve diventare un limite come invece lo è attualmente però è giusto che sia così. La seconda modalità delle suggestioni è quella per abitudine poiché la mente lavora per abitudini si può tranquillamente utilizzare questo principio al nostro vantaggio. La terza categoria di suggestione è quella data dalle associazioni in quanto si può far associare un colore una forma piuttosto che un determinato ambiente o una certa musica alla suggestione che noi vogliamo far impiantare nella mente di qualcuno e le altre due che sono quelle che a noi ci interessano particolarmente sono quella per imitazione quindi si può trovare una qualità che possiede una persona e suggestionarsi per sviluppare quella qualità o per esprimerla in maniera sempre maggiore. E l'altra modalità di suggestione è quella per ripetizione quindi ripeti una certa suggestione centinaia e centinaia di volte il tutto può essere riassunto con questa frase di alla tua mente centinaia di volte cosa deve fare e lei lo farà. Ora di queste cinque suggestioni nessuna la puoi utilizzare da subito per un semplice motivo perché non hai una base mentale adeguata ad accettare le suggestioni. Che cosa vuol dire? Che se tu ti svegli domani mattina e inizi ad applicare un processo per autosuggestionarti se poi durante tutto l'arco della giornata quindi per le restanti 24 ore tu metti in atto dei pensieri che sono praticamente l'opposto della suggestione che tu hai data a te stesso il processo non funzionerà. Quindi la base prima di iniziare ad applicare l'autosuggestione su di te devi capire questa cosa. Tu devi pensare e parlare di ciò che vuoi di ciò che desideri per molto più tempo sottolineo il molto più tempo di quanto non ne passi a pensare o a parlare a ciò che non vuoi. Tu devi pensare alla salute per molto più tempo di quanto ne passi a pensare alla malattia. Devi pensare al fatto che le cose possono andare bene per molto più tempo di quanto non ne passi a pensare o a parlare a tutto ciò che potrebbe andare storto. Devi pensare al coraggio, alla forza per molto più tempo di quanto non ne passi a pensare alla paura e alla debolezza. Quindi prima di applicare l'autosuggestione ricordati questa regola devi allenarti a pensare e soprattutto a parlare di ciò che vuoi per molto più tempo di quanto non ne passi a pensare o a parlare a ciò che non vuoi. Altrimenti è come se tu piantassi un semi in un giardino e magari lo pianti al mattino e poi durante tutta la giornata passi 24 ore a piantare erbacce affianca quel seme che purtroppo quelle erbacce andranno a distruggere il seme quindi non funzionerà nulla. Per quanto riguarda l'autosuggestione una volta che hai imparato a pensare a ciò che vuoi per più tempo di quanto non ne passi a pensare a ciò che non vuoi devi sapere che ci sono tre regole fondamentali per fare in modo che sia efficace. Prima regola l'autosuggestione deve essere lenta deve essere lenta non veloce quindi non devi ripetere delle autosuggestioni in maniera molto veloce una dopo l'altra senza pause no deve essere lenta perché l'emisfero destro preferisce di gran lunga le autosuggestioni che sono lente che hanno un ritmo e che soprattutto sono distanziate l'una dall'altra da delle pause quindi è importante che la tua suggestione quando la ripeti sia pronunciata in maniera lenta. Seconda regola l'autosuggestione deve uscire deve essere espressa senza sforzo il fatto che tu gridi a te stesso in un certo modo per autosuggestionarti non va bene perché nel gridare tu semplicemente vai a nascondere a reprimere il contenuto dell'inconscio invece che modificarlo se vuoi modificarlo devi prendere il contenuto dell'inconscio ed abbracciarlo quindi devi essere inclusivo quando dai delle autosuggestioni devi essere dolce non devi essere duro forte eccetera questa modalità dell'essere duri va bene in altri contesti e soprattutto con altre tecniche non con l'autosuggestione non credermi sulla parola sperimenta su di te e poi mi dirai quindi devi essere dolce il tutto deve uscire senza sforzo deve essere naturale terza caratteristica l'autosuggestione dovrebbe essere ripetuta principalmente dopo che ti sei svegliato e poco prima di andare a dormire questi due momenti sono ottimi perché la nostra mente in questi due momenti della giornata è molto condizionabile è molto influenzabile da qualsiasi stimolo esterno o interno quindi ti conviene utilizzare questi due momenti a tuo vantaggio invece di svegliarti di aprire la televisione invece di svegliarti di fare cose strane appena ti svegli inizia a ripetere le tue autosuggestioni perché in questo modo il tutto può funzionare quindi questi due momenti sono d'oro appena ti svegli e poco prima di andare a dormire naturalmente la mente è influenzabile anche in altre situazioni durante la giornata però usa questi due periodi una volta che avrai rispettato queste tre regole come deve essere formulata la frase per formulare correttamente la frase ci sono una quantità enorme di metodi ti consiglio di applicare questo qua che sto per condividere con te naturalmente ne esistono di più efficaci non posso condividerli nel rispetto dei miei clienti più avanzati però parti da questa modalità l'autosuggestione deve contenere ciò che vuoi entro quanto lo vuoi cosa sei disposto a fare per averlo e soprattutto punto fondamentale che fa la differenza tra un autosuggestione che ha successo ed ora che fallisce il tutto quindi gli altri tre punti devono essere resi emotivamente marcati perché la lingua che parla il subconscio è la lingua emotiva quindi il tutto deve essere emotivamente marcato se tu non usi questo quarto step ti dimentichi di rendere il tutto emotivamente marcato non funzionerà tante persone dicono ma devo impostare la frase in questo modo piuttosto che in quest'altro devo mettere una virgola qui devo mettere una virgola là non ti preoccupare delle virgole preoccupati del rendere il tutto emotivamente marcato altrimenti non ha effetto perché se tu parli italiano con una persona che parla solo cinese non vi capite state parlando due lingue diverse il subconscio parla una lingua emotiva tu parli la lingua razionale non va bene quindi devi parlare la sua lingua in questo caso devi rendere il tutto emotivamente marcato come lo fai immagina di aver raggiunto il tuo obiettivo e usa tutti e cinque i sensi e quindi vai a descrivere che cosa vivrai a livello di tutti e cinque i sensi se includi tutti e cinque sensi e soprattutto un po' esageri a livello magari di parole o di contesto puoi rendere il tutto emotivamente marcato l'importante che una volta che hai creato la tua frase quindi conterrà ciò che vuoi non ciò che non vuoi ciò che vuoi entro quanto lo vuoi ottenere che cosa darai in cambio per ottenere quella cosa e questo è un passo fondamentale nell'autosuggestione sto dicendo non in altre tecniche nell'autosuggestione è un passo importante perché la nostra fede ha gambe solide su cui poggiarsi se tutto ciò che noi diciamo è seguito da un piano o da qualcosa che noi andremo a fare per raggiungere una certa cosa perché un conto è dire divento il più grande tennista di sempre un altro dire divento il più grande tennista di sempre è per farcela mi impegnerò ogni singolo giorno studierò ogni singolo giorno eccetera eccetera quindi inserisci cosa darà in cambio ma soprattutto rendi il tutto emotivamente marcato una volta che hai creato la frase controlla leggendola ripetendola se ti tocca emotivamente oppure no se ti tocca emotivamente corretta se no la devi cambiare una volta che hai creato la tua frase inizierai a ripeterla cosa devi fare devi iniziare ad agire di conseguenza è vero che l'autosuggestione andrà a modificare le tue azioni bellissimo però l'autosuggestione deve essere retta da risultati reali quindi è molto più semplice installarsi qualsiasi convinzione se si fa seguire l'azione e soprattutto se si producono determinati risultati se io dico che voglio essere il più grande giocatore di basket di tutti i tempi è una cosa se io lo dico e poi faccio seguire le azioni quindi mi alleno tutti i giorni mi impegno studio dei migliori eccetera è molto più facile per la mia mente accettare questa frase perché è supportata dall'azione quindi l'azione deve essere un pilastro che va a sostenere tutte le affermazioni che tu fai tutte le autosuggestioni che tu dai a te stesso perché se non fai seguire una dose massiccia di azioni non produce abbastanza risultati per dire ok funzioni in questo modo quindi per poterci credere di più è importante questo step devi agire ogni singolo giorno più azioni fai più risultati otterrai se fai le azioni giuste e se ottieni risultati queste vanno a confermare la tua autosuggestione inizierai a crederci in maniera maggiore è vero che esistono dei metodi dove in realtà l'azione non è la cosa fondamentale da applicare subito però poiché ho diffuso con te uno dei metodi per suggestionarti ti consiglio applicando questo metodo di far seguire l'azione reale concreta a ciò che dici perché in questo modo è mille volte migliore metodo di far seguire i problemi